Angelo Dottavio, Abrex, fonte di credito anche per lo sport, sono tante le associazioni sportive che quest'anno si sono affidate al vostro circuito per sostenere le attività sportive? Sì, è un dato importante che nei 10 milioni di euro di acquisti e vendite che in Abruzzo ha determinato il circuito, ci sia il contributo di 15 società sportive. Società sportive di diverse tipologie di sport. Abrex dimostra come questa capacità di credere nel futuro, nella capacità di determinare un cambio di paradigma, di superare gli ostacoli, nello sport è ancora più facilmente compresa. Quindi la manifestazione di oggi serve a dare un riconoscimento a queste società sportive che paradossalmente prima delle imprese, o almeno insieme alle imprese, sono riuscite a comprendere l'importanza di stare insieme, l'importanza di fare rete, di fare squadra. Sta andando bene non solo per aiutare le imprese che sono in difficoltà ma anche per dare ulteriore sviluppo alle aziende sane, nei circuiti sono presenti aziende valide con ottimi prodotti, ottimi servizi e siamo molto soddisfatti del crescere di tutto il sistema. Ormai più di 6.000 aziende, più di mezzo miliardo di crediti transati e tanta soddisfazione. È la capacità anche veramente di creare coesione sociale sui territori attraverso l'impresa che arrivano fino a dare supporto anche a iniziative di questo tipo per il sociale e per il tempo libero. In Abruzzo ha visto i stessi numeri, la stessa importanza di quello che è stato fatto in Sardegna? Beh, gli amici abruzzesi di Abrex stanno facendo un ottimo lavoro, anche qui sta crescendo notevolmente e penso che si tireranno fuori le belle soddisfazioni.